16 febbraio 1987, si apre a Gerusalemme il processo contro John Demian Huck. Nato in Ucraina ed emigrato negli Stati Uniti, l'uomo è accusato di essere Ivan il Terribile, un ufficiale delle SS divenuto tristemente noto per i soprusi perpetrati sui prigionieri reclusi nel campo di concentramento di Treblinka. La Corte lo condanna a morte nel 1988, ma la sentenza non sarà mai eseguita. Demian Huck viene rilasciato in appello perché non ci sono abbastanza prove che sia effettivamente lui il carnefice di Treblinka. Negli anni successivi si apriranno altri processi in Europa contro di lui.